I nostri campi parcellari che abbiamo fatto negli ultimi tempi, che riguardano anche le prove di concimazione, ci hanno informato che il funzionamento dell'azoto è determinante, soprattutto nel conseguimento degli obiettivi qualitativi. Inoltre si può dire che con il frazionamento riusciamo a migliorare l'efficienza della distribuzione della concimazione azotata perché sfuggiamo alle logiche degli eccessi di pioggia successivamente alla distribuzione del concime. Quindi se abbiamo frazionato sicuramente abbiamo migliorato l'efficienza. Grazie a tutti.